Tyson è considerato uno dei più grandi pugili dei pesi massimi di tutti i tempi. Ha regnato come campione indiscusso dei pesi massimi del mondo dal 1987 al 1990, vincendo le sue prime 19 lotte professionali per KO, di cui 12 al primo round. Riuscendo a conquistare il suo primo titolo all'età di 20 anni, ha detenuto il record come il pugile più giovane a vincere un titolo dei pesi massimi ed è stato il primo pugile dei pesi massimi a detenere contemporaneamente i titoli VBA, VBC e IBF, nonché l'unico peso massimo a unificarli in successione. L'altezza di Tyson, 178 centimetri, non gli ha mai impedito di mandare al tappeto anche gli avversari più alti. Mike Tyson contro Andrew Golota, 20 ottobre 2000, al Palace di Obermeels, Michigan. Il combattimento tra Mike Tyson e Andrew Golota era uno dei combattimenti più attesi degli anni 90. Tyson, ex campione del mondo dei pesi massimi e uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, affrontava il polacco alto 193 centimetri e vincitore olimpico nella box dei pesi massimi alle Olimpiadi di Seoul del 1988. Golota è un pugile talentuoso e rispettato sul ring. Il combattimento è iniziato in modo intenso e Golota sembrava avere il sopravvento nei primi round. Tyson ha provato a colpire duramente, ma Golota ha risposto con combinazioni e un buon lavoro di gambe. Tuttavia, nel terzo round, Tyson ha colpito con un duro gancio destro che ha mandato Golota al tappeto. Nonostante questo knockdown, Golota si è rialzato e ha continuato a combattere coraggiosamente. Entrambi i pugili si sono scambiati pugni potenti, ma Tyson sembrava prendere il sopravvento quando ha colpito Golota con un altro duro pugno che lo ha fatto barcollare, costringendolo ad abbandonare il combattimento, annullando l'incontro. I fan gli lanciarono popcorron e soda all'uscita dal ring. Mike Tyson contro Frank Bruno, 25 febbraio 1989, Las Vegas, a Lilton Hotel. Franklin Roy, Frank, Bruno, alto 191 cm, è diventato campione dei pesi massimi del World Boxing Council nel 1995 e ha vinto anche il titolo europeo dei pesi massimi con un knockout contro lo svedese Anders Ekland. Il combattimento è durato diversi round, con Tyson che cercava di trovare un modo per colpire Bruno, e Frank che cercava di difendersi e mettere a segno colpi contro. Tyson ha mandato Bruno al tappeto con una forte combinazione di pugni. Bruno si è ripreso e ha iniziato a reagire bene, utilizzando la clinch per non lasciare che Tyson si avvicinasse, ma non è servito a nulla poiché Iron Mike ha finalmente trovato la testa del suo avversario al quinto round. Tyson ha applicato buonas combinazioni con le due mani, trattato per i golpi che le lanza il campeone, una buona combinazione tremenda, ora la derecha, doblata arriva, nuova derecha, izquierda e Richard Steele britannico. Mike Tyson contro Lou Savarese, 24 giugno 2000, Hampton Park, Glasgow, Scozia. Lou Savarese, americano alto 196 cm, non solo era un pugile ma anche un artista marziale misto. Tyson con una velocità impressionante con un gancio sinistro, mandò il suo avversario al tappeto in soli 15 secondi. Lou sembrava una bambola di pezza cadere sul ring, ma è riuscito a riprendersi rapidamente, a cui Tyson ha risposto con pugni veloci e potenti, intrappolando Lou Savarese nell'angolo. Tale era la sua adrenalina che non si era nemmeno reso conto che l'arbitro si trovava sul suo cammino cercando di fermare l'offensiva di Mike contro Lou Savarese. Anche l'arbitro John Foyle è stato colpito e è caduto a terra, ma si è alzato gridando a Mike Tyson che il combattimento era finito. Alla fine sono riusciti a fermare l'assalto e l'arbitro ha dichiarato la vittoria per Mike Tyson per KO tecnico. Un combattimento che è durato solo 38 secondi. Mike Tyson contro Tyrell Biggs, 16 ottobre 1987, ad Atlantic City, New Jersey. Tyson aveva dimostrato che per batterlo l'altezza non era un vantaggio. Era già noto che per sconfiggerlo sul ring dovevi essere veloce quanto lui e possedere una pura potenza fisica. Sorprendentemente, nel 1987 c'era un ragazzo del genere, l'americano Tyrell Biggs alto 196 centimetri, che da dilettante aveva vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi estive del 1984, dopo aver vinto in precedenza il bronzo ai giochi panamericani del 1983 e l'oro ai campionati mondiali del 1982, tutto nella categoria dei supermassimi. Durante i primi due round, Biggs ha cercato di evitare l'offensiva di Tyson mantenendo la distanza e lanciando potenti jab sinistri, mentre cercava anche di usare il suo evidente vantaggio di altezza per evitare i potenti pugni di Tyson. Biggs ha avuto un primo round solido, colpendo con più della metà dei jab e limitando Tyson a soli tre. Biggs ha continuato a utilizzare questa tattica all'inizio del secondo round, ma Tyson è riuscito a colpire con un grande gancio sinistro che ha spaccato le labbra di Biggs. Nel terzo round, Biggs ha praticamente abbandonato il suo piano di gioco ed è stato sopraffatto dalla potenza di Tyson, che ha finalmente colpito con un forte destro che ha aperto una ferita intorno all'occhio sinistro di Biggs. Tyson avrebbe continuato a dominare nei round 5-6, attaccando costantemente Biggs con ganci e destri, anche se Biggs sarebbe sopravvissuto a entrambi i round senza essere mandato al tappeto. A 30 secondi dalla fine del settimo round, Tyson ha colpito Biggs con un gancio sinistro che lo ha mandato al tappeto e quasi fuori dal ring. Tyson ha continuato ad assalire Biggs appena si è alzato, facendo cadere nuovamente con un gancio sinistro, spingendo l'arbitro Tony Orlando a fermare il combattimento e ad assegnare a Tyson la vittoria per KO tecnico. Mike Tyson contro Sammy Scaff, 6 dicembre 1985, all'Hilton Center di Albany, New York. Questo è stato un combattimento molto interessante, specialmente perché Tyson aveva solo 19 anni in quel momento e stava ancora costruendo la sua reputazione con solo 13 combattimenti come professionista e non aveva ancora affrontato grandi avversari. Il primo a ricevere tale onore fu l'americano Sammy Scaff, che poteva dare filo da torcere a Tyson grazie alla sua massiccia altezza di 196 centimetri. Tyson è stato implacabile con Scaff, che non è riuscito a fermarlo con le braccia distese. Tutto ciò che poteva fare era lanciare un gancio sinistro e sperare nel meglio. Tyson è stato colpito da questo pugno solo una volta e poi ha iniziato a perforare il suo avversario con una serie di ganci alla testa di Sammy, che non sapeva da dove venissero. Tyson ha spinto il suo avversario contro le corde e lo ha caricato con un potente gancio sinistro che gli ha rotto il naso, e il combattimento è stato immediatamente fermato con un Sammy sconfitto e con il viso sanguinante. Per oggi è veramente tutto, una buona notte da Blendtrend.